Un tuffo nel passato e nella storia sulle colline riminesi con la Monte Gridolfo liberata, la manifestazione che ha celebrato l'anniversario della liberazione dall'occupazione tedesca. È stata messa in scena una rievocazione in uniformi inglesi e tedeschi per ricordare la battaglia di Monte Gridolfo nella quale il tenente Gerard Norton compì il gesto eroico di attaccare e sfondare le difese della linea gotica. Noi qui a Monte Gridolfo non abbiamo forse conosciuto gli ECI di altre zone d'Italia, però abbiamo avuto un atto eroico che ha valso la massima onorificenza ad un tenente dell'esercito inglese, un sudafricano che era stato poi arruolato nell'esercito inglese appunto, il nostro tenente Norton che è anche cittadino onorario e quindi ci piace riavocare l'atto eroico e il gesto che ha permesso di liberare Monte Gridolfo e sfondando la linea gotica. Il comune di Monte Gridolfo è sempre stato attento al recupero della memoria e attraverso un percorso che ha visto la costituzione di un museo vent'anni fa ha creato anche un evento, una rievocazione storica per raccontare i giorni della battaglia. È una finzione scenica sicuramente ma tutto ciò lo si fa per portare avanti i valori che ci ha insegnato purtroppo la guerra, la libertà, la democrazia e la pace.